Nella palestra di Rozza ricavata nei pressi del castello Cantore, gli allievi ufficiali hanno l'opportunità di apprendere i primi rudimenti della tecnica alpinistica. Su corte vie di crescente difficoltà vengono spiegate da istruttori qualificati e poi messe immediatamente in pratica dagli allievi le diverse tecniche di arrampicata, le manovre di sicurezza con la corda, le tecniche di calata in corda doppia e il movimento di una cordata sia su roccia che su ghiaccio. Il tutto avviene in condizioni di assoluta sicurezza e con la possibilità da parte di tutti di verificare eventuali errori. Durante lo svolgimento del corso viene spesso richiesta la partecipazione dei reparti del battaglione a cerimonie sempre seguite con molto entusiasmo dalla popolazione locale, fiera delle sue tradizioni militari ed alpinistiche. Per gli allievi la più importante è comunque la cerimonia del giuramento che oltre a segnare la fine della prima parte del corso costituisce un momento di incontro tra i militari e i loro familiari, Fieri che a un loro caro faccia parte di un reparto ben addestrato. E' ragazza! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'addestramento pratico del plotone mortai culmina con l'esercitazione di tiro che si svolge durante il campo nei pressi di Latuil. La zona degli obiettivi è situata nella parte più alta del vallone di Orger, mentre lo schieramento delle tre squadre mortai si trova in località La Creta, nella valle di Latuil. Centro, 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 centro. Prefai, prepara. Pronto? Arma data, arma pronta. Velozzi, dai. Poco. Velozzi, dai. Velozzi, dai. Velozzi, dai. Velozzi, dai. Tra i quarti. Un po' Velozzi, dai. Grazie a tutti.